Buonasera a tutti, sono Luigi Naracu, se preferite bentornati su Final Fantasy VII Remake in cui oggi andremo a vedere Tifa che purtroppo è stata sgonfiata questa è una delle cose che sin dall'inizio dei rumors iniziali su Final Fantasy VII Remake si sapeva che avrebbero diminuito pesantemente le forme di Tifa e dalla sua... che vuole avere una quinta coppa G? dovrebbe avere delle forme più adatte a una che combatte anche perché altrimenti sarebbe stato Balonz Balonz che è esattamente il contrario di quello che hanno fatto in Lightning Returns perché per chi non lo sapesse Lightning Returns hanno aumentato una taglia alle tette di Lightning in modo che con il cambio dei vestitini le sbalonzo la somma eh sì, Lightning Returns... è un momento molto basso della saga di Final Fantasy mentre il 13 non mi è dispiaciuto il 13-2 anche tutto sommato era brutto perché era brutto però era accettabile l'X2 l'ho sempre adorato l'X2, non l'ho stato edutto il 13-3... non ce l'ho fatta il 13-3 è stato più forte di me ancora vuole cosa... io non mi ricordo sono i Cetra? non... penso siano i Cetra, Cetra come cavolo si chiamavano non vuole tanto andarci il Colosseo ci sarà anche nella parte 2 probabilmente oddio pur che sono solo a pensarci probabilmente ci sarà il Colosseo nella parte 2 nel secondo gioco oh non è nulla non mi sono divertiti ora il Colosseo ah il passato è 7-7 però non mi sono più bene 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 non so se si fa proprio capire che deve andare la eh capire se ti capita la solco ciao tifa vabbè le hanno ridotte ma non così terribili si è sgonfiata parecchio tifa so che c'è stato anche del gameplay su tifa non l'ho mai visto c'è una idea di come combacco tifa oddio no non tantissimo forse signora comunque è grosso ma vabbè sempre carina tifa è scontato se la mia best waifu di Final Fantasy VII la adoro tifa a Eris non mi è mai piaciuta più di tanto nonostante abbia la canzone più bella e per quanto riguarda Yuki la marlene quant'è piccola ooooh guarda colazione ooooh guarda colazione ooooh guarda colazione Non è vero, non è vero. no direi che ci possiamo giocare che prego non lo sai a tutti ho qualcosa di strano ai capelli di tifa non lo sai è gigantesca la mappa comunque io continuo a reputare che il finale del primo gioco sarà quando usciamo non può essere quella scena anche se quella scena sempre perfetta come la durata quindi non sono neanche quanto duri in realtà pensato di una quarantina d'ore come gioco che è poco però qua nel fantasy no dai non ne hanno così tanto cioè ci sta vuol dire che sì la tifo originale era troppo grosso anche la mensile anche se il design di sito di titolo a proprio così la tifo originale ...e' il mio amore... ...che' il mio amore... ...alè? ...a questo sarebbe un altro... ...segno, bene. ...a la prima raccoguola è il 2000... ...como puoi dire alla facciata di te... ma è impossibile. ...e' il mio amore... ...buono il mio amore! ...Dì, grazie a voi, oggi mi trovo molto bene. Buona notizie. Sì, non c'è altra spiegazione, quel robocerchio là è un magnete, non c'è altra spiegazione su come possa rimanere sulla Buster's Log. Chi è nella stanza accanto? Sì, non c'è altra spiegazione, non c'è altra spiegazione. Sì, non c'è altra spiegazione, non c'è altra spiegazione. Non c'è altra spiegazione. Hanno messo dei riferimenti ad Advent Children, i ragazzini che non sono altro che dei Seyfirot in Ampola che devono riuscire a riunirsi con Genova, o con Genova, di Nova. Ma minchia si produce, lo scoprirò guardando quel torbieric. Ok, va bene. Non c'è altra spiegazione. Penso che i periodi di gameplay saranno dal quinto circa. Ma non è vero, in questo proprio episodio abbiamo avuto un po' di gameplay. Sì, sono 120.000 personaggi alla trama. Mai vista, mai sentita. Mai vista. Si sta, eh, siamo nel 2020, non siamo nel 1997? No, cazzo dico. È del 1997. Così? No, scomplimenti. Un po' di sprovazione. Ok, quindi altra cosa che vedremo. Ok, quindi altra cosa che vedremo. Ok, quindi altra cosa che vedremo, non si può andare avanti, si vuole già. Ok, quindi altra cosa che vedremo, non si può andare avanti, non si può andare avanti, non si può andare avanti. Ok, quindi altra cosa che vedremo, non si può andare avanti, non si può andare avanti, non si può andare avanti. Ok, quindi altra cosa che vedremo. Alcattolo. In grandiacidio. Abbiamo fatto ancora il video di qualcosa di più alcune. Il secondo periodo. Allora, non si può andare avanti. Adesso ho un po' di un bacco di spilazione, quindi vedo qua che c'è. No, davvero! Ma dai! Il pop del chokobu! Bisogna stare attenti un attimino! No, ma... Non quando si riesce. ... 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 quando siamo contro un boss che è debole al ghiaccio avremo due materie per colpire non è un po' bravo, non è un po' bravo, non è un po' bravo, non è un po' bravo oh i racchi mannari, devo indagare ah tutto qua a presto Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Ok. Grazie a tutti. 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 ooo Grazie. Grazie a tutti. 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 Un cimitero. Ok. 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 Una materia. Ok. 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 Evoluzione materica? La materia meditativa si è evoluta. Chakra. Abbiamo evoluto Chakra al secondo livello. Eccola qua. Materia meditativa. C'è un giudicare che è una stazza. Comodo. Torno nei nemici? Non torno nei nemici. C'è un giudicare. C'è un giudicare. Ah, capace. Evoluzione. C'è un giudicare. C'è un giudicare. vedete se c'è qualche altro premio la missione direi che l'abbiamo finita l'abbiamo finita Inizia che inizia il mio problema cronico di non saper orientarmi. Inizia che inizia. 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 Inizia. Inizia che 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 inizia che inizia. Inizia che inizia che inizia. 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 è fallita? ah no un bacio della polzella allora ahhh ovviamente macerano piaudio ma abbastanza cagare ok 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 ancora lei un draccerio un draghetto quindi di una viverna vabbè sono le solite fetch quest da gdr ci sta ok 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 no questo è un evento di trama vostro episodio ok 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 potrei acquistare nuove materie sfide speciale ah ok ok quanto soccorretrice ah ah in realtà utile ok carina 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 ci sta è una materia inedita molte materie non esistono più e ci saranno di nuove prendere una mentale all'estremante wait indagine eleven bello mi piace Molto interessante Molto 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 interessante 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 Allora Molto interessante 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 S durable Molto interessante Molto miners comuberan Grazie per la visione! Oh cazzo! Complimenti! Oh cazzo! 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 Ah... Cazzo! Cazzo! Ah, ecco là. Iniziamo le cose per una subquesta. Mi manca solo una. Noi, ecco là. la chiave è in una di queste la chiave è iniziata Ehi, cavolo, non riesco mai a evitare questo attacco. Ehi, cavolo, non riesco. Guardate la chiave. Ok. 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 C'è un evento secondario, nel prossimo episodio faremo un tetatet con Tifa, quindi, che suona malerrimo. Va bene ragazzi, il prossimo episodio il tetatet con Tifa, e poi andremo avanti con la crana, alla prossima!